Qui sul canale ogni giorno vengono fatti dei nuovissimi regali agli iscritti, tra cui nuove skin, i cosmetici o anche il nuovissimo pass battaglia. E niente Bomber, se vuoi provare a vincerli anche tu, skin, pass battaglia e cosmetici, ti basterà lasciare un bel like, iscriverti al canale attivando la campanellina su tutte le notifiche, condividi ai tuoi amici per aver più possibilità di vincita e mi raccomando commenta nei commenti con il tuo ID di Fortnite. Ovviamente quello di Epic Games, io vi andrò a inviare l'amicizia a tutti e poi così potrò farvi i regali. Niente raga, like, iscrizione e campanellina attiva, il vostro ID nei commenti, condividete a tutti i vostri amici e riceverete sicuramente dei doni gratuiti da parte mia. Vi lascio al video Bomber. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Firex, oggi ragazzi andremo a parlare di come avere delle skin che in poche parole sono uscite in tempo limitato su Fortnite, come Harley Quinn, Renata, Batman che ride, questi tipi di skin qua, ma non al prezzo a cui erano uscite, ma ragazzi ad un prezzo scontatissimo. Ovviamente questa cosa è solo per il Black Friday, per cui ora che ve lo andrò a spiegare dovrete affrettarvi per comprarle, ma prima di partire col video vi suggerisco di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Se arriviamo ai 150 like vado a comprare uno di questi codici che vi stavo dicendo prima e ve lo vado a regalare a voi, per cui arriviamo a 150 like ragazzuoli. Mi raccomando inviatemi la richiesta, official, collao grande, trattino medio, firex tutto maiuscolo. Come vedete vado sempre, ma dico sempre, ad accettare tutte le richieste, infatti adesso sto andando ad accettare quelle di oggi che non ho visto. Mi raccomando inviatemi tutti la richiesta, condividete ai vostri amici e fate condividere agli amici in modo che si crei una catena. Andatemi a seguire su Instagram official col trattino basso, firex tutto minuscolo, così ci teniamo in contatto per i regali. E niente ragazzi, 150 like, like, iscrizione e campanellina, possiamo partire col video. Ragazzi ovviamente le offerte di cui vi parlavo non sono solo al di fuori del gioco, ma sono anche interne al gioco. Possiamo prendere esempio da questo bundle qui, che per il Black Friday da 15€ è passato a 7,50€. Ragazzi sono 3 skin, ragazzi è regalato praticamente, voglio dire di sì. Abbiamo un nuovo bundle che questo non è con il Black Friday purtroppo, per cui non avremo dei sconti. Ma oltre a questo sconticino che abbiamo visto, ne abbiamo qualcuno al di fuori del gioco e su un sito preciso. Ora vi andrò a far vedere il sito, e in questo sito potremo trovare skin come Harley Quinn, Renata, il Batman che ride, e questi tipi di skin qua, che fondamentalmente sono uscite per poco tempo su Fortnite. E adesso molti di voi che non le hanno acquistate, si stanno rimpiangendo della loro scelta. Per cui vogliono andare ad acquistarle, ma non sanno come fare, perché appunto non le trovano all'interno del gioco, non possono andarle ad acquistare da Amazon. Ma appunto ragazzi, ci sono dei siti precisi, che appunto vi faranno riscattare queste ricompense. Ovviamente questa qui è un'occasione, perché per appunto il Black Friday hanno dato questa occasione limitata. Non è sempre stato così, perché sì, è vero, troviamo le skin della season 3, che ora non ci sono più, le possiamo trovare su Instant Gaming. Ma appunto ragazzuoli, le possiamo trovare, ma non ad un prezzo ottimale. Infatti ragazzi, andiamo su Eneba.com, che sarebbe un sito a cui io non faccio sponsorizzazione, magari in futuro potrei fare qualche collaborazione con Eneba, anche per venire a regalare qualche skin a voi. Ma per ora non sono per niente in collaborazione, per cui ragazzi non è uno sponsor, ma è solo un modo per farvi vedere come acquistare questi oggetti. Partiamo subito dal piccone, che ci era stato dato quello là di Catwoman. Ce l'abbiamo 1,82€, da 5€ passa ad 1,82€. Poi abbiamo il codice per la Lequin Rinata, che era nei nuovi fumetti, 1,49€ al posto che 5€, e potremo direttamente riscattare questo oggetto tramite i codici. Poi abbiamo un altro bundle, che è quello del Batman Keride, ne abbiamo 4 ragazzi, quello del Batman Keride, che da 5€ passa a 3,29€ ragazzi, scontatissimo. Che in realtà quel bundle era uscito appunto a 2400 WAC nello shop, quindi sono circa 20€ di sconto. E poi abbiamo l'ultimo bundle, che sarebbe quello dello zainetto di Harley Quinn, a 13 centesimi, insieme al bundle quello là del Delta Plano, a 15 centesimi. Quindi ragazzi, queste due cose veramente scontate. Io vi consiglio di andare a fare un giro su Eneba, è un sito totalmente gratuito. Possiamo trovare, se siete appassionati di videogiochi, andiamo su PSN Giochi, e possiamo trovare tantissimi giochi da FIFA 22, Warzone, Call of Duty, tutti i tipi di giochi possibili. Ve lo ricordo, non è una sponsorizzazione, per cui non mi pagano per dirlo. Lo sto dicendo per voi. Per i regali di Natale o per il Black Friday, fatevi qualche regalo. Niente ragazzi, seguitemi, lasciate like, attivate la campanellina. Se arriviamo ai 150 like, vado a regalarvi il bundle del Batman che ride. Bella raga!